Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Si prospettano giornate impegnative, le prossime in arrivo, per la Lazio di Maurizio Sarri. La compagine bianco-celeste è infatti attesa da un numero decisamente importante di partite, terra a campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Allo stesso tempo però i capitolini monitorano attentamente anche il campo del calciomercato. Come riportato da TMVV, infatti, quella attuale potrebbe essere l'ultima stagione di Adam Marusic nella capitale. Il giocatore, si legge, avrebbe infatti intavolato alcuni contatti con l'Arabia Saudita, resta da comprendere con quale club, per un eventuale trasferimento al termine del campionato in corso. Ciao tifoso bianco-celeste, pensi che Marusic debba rimanere nella Lazio? Lascia la tua opinione nei commenti poiché è molto importante per la Lazio.